Ma no! Dai ragazzi, ma questo è scinto, dai no! Dai no! Mi sento scinto! Come fate a dichiarare a mano? Dai a mano! Dai a mano! Dai a mano! Ben volontario! Si sta attaccando al corpo! C'è lo sport! C'è lo sport! Vincenzo! 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 Voglio bene! Vincenzo! Vincenzo! Stavate il programma e facciamo volare in alto! Un attimo! Sì, tante miei programmi! Ho capito che si asciuga di nuovo! In dieci minuti! Io non ho asciugato oggi al sole! Sì, ma io non ho asciugato oggi al sole! Io non sono adesso a suonare! Tiziano MVP! Vai! Inizia partita! Oh! Vai, tiz! Vai, io, Tiziano! Tiziano, hai fatto rischi anche un pallone a fianco? Vai! Comincia!